ciao a tutti oggi voglio parlarvi della lotta alla cavolaia per come la faccio io ci sono mille modi diversi ovviamente io cerco di essere meno aggressivo possibile non uso il decis che sarebbe la via definitiva la cavolaia adesso le toglierò a mano tutte quelle che vedo i miei alline mi ringrazieranno dopodiché passerò un prodotto a base di piretro non è del tutto naturale ve lo dico subito ci sono altri metodi naturali però io se voglio salvare scusatemi capra e cavoli devo devo mettere qualcosa di aggressivo ma non voglio arrivare al decis quindi proverò questo prodotto a base di piretro un breve cenno sulle cavolaie sono bruchi che nascono dalle uova deposte dalle farfalle in primavera le splendide farfalline bianche che vedete ecco in realtà tanto splendide non sono per noi ortolani perché ci fanno di quei danni paurosi disposto sull'altra ecco dicevo queste splendide farfalle bianche depongono dalle 30 alle 50 uova luna queste poi si schiudono rilasciano le larve che si nutrono dei nostri cavoli quindi cercate di prenderle tutte quelle che trovate perché sono infide guarda quando allora io qui c'ero passato un paio di settimane fa per togliere le lumache e non avevo visto la cavolaia proprio non avevo visto parte una piccolissima colonia che si vede anche dal video io la cavolaia qui non l'ho trovata quindi quest'anno annoveriamo tra gli animaletti del mio orto cavolaia lumache poi a salire abbiamo i cinghiali i caprioli i topolini quindi abbiamo uno zoo tutto nel mio orto ovviamente non dimentichiamo l'istrice d'estate per quanto riguarda le patate diciamo che io lavoro per loro quello che avanza lo mangiamo noi allora l'anno prossimo sicuramente dovrò recintare almeno per l'istrice e per i caprioli per i cinghiali ci vuole una rete molto robusta non lo so se ci arrivo se non passa addirittura alla recensione elettrica allora per adesso questi quattro cavoli li ho ripuliti ora vi faccio vedere come funziona per il piretro come vi dicevo adesso voglio provare questo prodotto al piretro è a base di piretro un contenitore a due litri messo un litro 2,5 millilitro ora bisogna rispettare alcune precauzioni meno per quanto riguarda i dispositivi di protezione personale quindi guanti mascherina ed occhiali perché è sempre un prodotto chimico faccio vedere come il loro oggetto e cerco di andare anche ai lati delle foglie sotto sarebbe da fare il tramonto non va bene con l'esposizione della luce però oggi è molto tenue quindi va bene così qua mi è scappata una dopo la toglierò a mano dopo vi scrivo il periodo di carenza del prodotto adesso non sono riuscito a leggerlo naturalmente posso metterlo su queste culture perché non le utilizzerò subito ci vorranno ancora un paio di settimane almeno se non tre quindi ho tutto il tempo per fare decantare il prodotto dopo vi faccio vedere come mi hanno ridotto un cavolo praticamente non c'è rimasto più niente sono veramente voraci i cavoli neri interno è ancora molto bello spero di recuperarli guardate quest'anno veramente il primo anno che mi capita un attacco del genere è una lotta continua veramente questi dovrei riuscire a salvarli dentro sono ancora molto belli ovviamente se dovesse venire a piovere tra oggi e domani bisogna ripetere il trattamento queste sono le ultime che ho trapiantato ovviamente sono state attaccate anche loro come vi dicevo sul video del costo di un orto autunnale per tre quattro persone e ho accennato al fatto che bisogna tenere conto di questi attacchi quindi seminare o trapiantare qualcosa in più infatti sono stato profetico guardate questo non hanno completamente mangiato c'è rimasto più niente qui evito di darlo agli altri perché sono quasi pronti per essere raccolti bisogna tener conto anche di questo siete lì per mangiarli inutile guardate come hanno ridotto questo uno scheletro qui prima di questo video cioè dieci minuti fa ho tolto una decina di lumache e qui ce l'ho già passato questa invece me l'hanno risparmiata qui c'è passato il cinghiale ho tolto un po di foglie quelle più brutte lì ci sono predatori però poi tutto alle galline ovviamente non lo eroro quella una parte di e con un litro di prodotto è finito ho fatto gran parte di un orto invernale ancora molto indietro mi posso permettere un trattamento per la lotta cavolai è tutto spero di darvi buone nuove su instagram per quanto riguarda l'esito di questo trattamento ah e volevo dirvi se vi interessa ho aperto il blog unorsoincampagna.com lì ovviamente farò approfondimenti che non posso fare in video quindi se vi va di venermi a trovare poi c'è l'area commenti quindi potete commentare potete partecipare ai miei articoli quello che io imparo quello che vedo quello che sbaglio ve lo scrivo lì così magari può servire anche a qualcun altro è tutto vi ringrazio e buona giornata è tutto